Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo l'analisi di Sabaf. Nel conto economico abbiamo molte voci verdi, quindi in crescita, le principali tipo il fatturato in crescita del 10%, profitto lordo che segue in maniera praticamente uguale, utili netti in crescita e debito corrente in calo, questo ovviamente fa calare il rapporto debito utile come possiamo vedere qui da grafico. Utili netti sui fatturati nel 2017 saliti del 65% rispetto all'anno precedente e direi che tutto sommato non sono neanche così bassi, buoni assets nel lungo periodo e abbastanza buoni quelli sul breve termine. La pecca più grossa probabilmente sono le spese generali amministrative e di vendita che risultano essere un po' troppo alte e per quanto riguarda il prezzo in questi giorni sta quotando circa 13 euro d'azione e secondo me potrebbe quotarne tranquillamente anche intorno ai 20, quindi in questo periodo per i miei parametri risulta essere sottostimata. Ora se vuoi il mio indicatore ti lascio il link in descrizione, ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale, ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao!